Io sono contento della partita di oggi perché fino al 45esimo ci siamo giocate la pari con la squadra avversaria, assolutissimamente la pari. Poi qualcuno oggi si è intestardito a fare assist dal lato opposto, gli abbiamo confezionato sul rigore, una palla donavamo in fase offensiva impossibile da perdere, ci siamo riusciti, però ti ripeto il primo tempo l'abbiamo giocato assolutissimamente alla pari. Secondo tempo, pronti via, hanno fatto il secondo gol e dopo il secondo gol contro il Favara non puoi più fare niente perché loro palleggiano bene, giocano la palla bene, noi eravamo un po' raccapezzati con diverse assenze, tante assenze, con giocatori arrivati da pochi giorni se non da un giorno messi in campo obbligatoriamente, speriamo in un futuro migliore sicuramente. Noi abbiamo la prospettiva di affrontare le partite una alla volta e le partite si iniziano tutte da 0 a 0 e si giocano tutte per vincere, altre sfoglie di prospettiva non ce n'è. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ovviamente poi dopo il gol i ritmi sono un po' calati, anche un po' dal rammarico del rigore, però i ritmi sono stati abbastanza alti, soprattutto al primo tempo, poi al secondo tempo abbiamo calato un pochettino, è normale, come prima partita io comunque sono abbastanza contento perché dobbiamo ripartire comunque dal nostro primo tempo e ricominciare appunto da lì.